Hi-Fi Rush è al 207esimo posto tra i titoli più giocati su Xbox negli Stati Uniti a dicembre 2023 con solo l'1% di utenti attivi. Quindi, nella classifica stilata da Sirkana, dove dominano invece Fortnite, Call of Duty HQ e GTA V, il gioco sviluppato da Tango Gameworks non è chiaramente uno dei pesi massimi della libreria Microsoft. Ok, allora perché ne stiamo ancora parlando? Certo, si tratta di un action musicale di grande qualità, ma non è questo il punto. Il fatto è che Hi-Fi Rush potrebbe essere la prima delle esclusive Xbox annunciate e pubblicate dopo l'acquisizione di Zenimax Media a finire su tutte le console della concorrenza, comprese quelle PlayStation. La voce è infatti nata nei giorni scorsi su Resettera, ma presto ha trovato anche varie sponde in giro per l'Internet, fino a quella che è quasi una conferma ufficiale. Hi-Fi Rush è stato classificato in Australia per PS4, Nintendo Switch e Xbox One, quindi salvo sorprese lo vedremo presto pure su PS5, anche se non è ancora chiaro se con una versione pari a quella di Xbox Series X OS, oppure se solo in versione PS4 tramite retrocompatibilità. L'annuncio poi potrebbe arrivare già dal Developer Direct del prossimo 18 gennaio, e non sarebbe la prima volta che un'esclusiva Xbox arriva su Nintendo Switch, visto che la stessa situazione l'abbiamo già vista con la serie Ori e oltre che con Minecraft e derivati vari. Tuttavia, in questo caso, la situazione sarebbe un po' diversa. Hi-Fi Rush è infatti un gioco sviluppato da un team di Xbox Game Studios, mentre Ori è invece una serie di Moon Studios che è comunque un team indipendente, nonostante l'IP sia controllata da Microsoft. Contrariamente poi a Minecraft, che era già invece presente su diverse piattaforme, Hi-Fi Rush è un gioco recente e nato come esclusiva. Non stupisce dunque che un rumor di questo tipo abbia suscitato un certo scalpore tra gli appassionati di videogiochi, e tra le tante voci si è distinta quella di Club Reel, che trovate facilmente online e che qui riassumeremo solo brevemente. In sostanza l'insider ritiene che un marchio è definito dai suoi giochi e che nel momento in cui si portano esperienze alla concorrenza si toglie valore al marchio stesso. Quindi Xbox portando i propri giochi su PlayStation perderebbe anche la sua identità, diventando come un cuoco che per accontentare tutti finisce per non accontentare nessuno. Una direzione questa che Club Reel dice di non condividere e di non capire. A questo punto però si potrebbe ribattere che sono anni che il capo di Xbox, Phil Spencer, parla apertamente di come l'obiettivo a lungo termine di Xbox sia quello di portare i suoi giochi su più piattaforme e su schermi possibili. Rimanere stupiti della possibilità che alcuni giochi escano su altre piattaforme significa aver vissuto per anni con la testa nella sabbia e quindi non aver capito nulla della strategia di Microsoft. E inoltre c'è anche un altro punto importante da tenere a mente. Hi-Fi Rush è un gioco che ha esaurito tutto il suo potenziale commerciale, l'abbiamo visto infatti dai dati di Sirkana citati in apertura ed è inoltre evidente da quanto fosse assordante il silenzio sul titolo a meno di un anno dalla sua pubblicazione. Per cui in sostanza è chiaro che portarlo su altre piattaforme potrebbe solo far bene alla sua diffusione. In più, e questo è ancora più importante, ad oggi non c'è nulla di ufficiale, né per Hi-Fi Rush né per altre esclusive Xbox citate da leak più o meno affidabili in questi giorni. Lì che questi che hanno parlato persino di opere come Sea of Thieves, che sì, rappresenterebbe un caso eclatante visto il successo del gioco Rare, ma come detto per questo specifico gioco non c'è davvero nulla di concreto. L'argomento è comunque stuzzicante, quindi continuiamo a parlarne nei commenti, mentre noi qui andiamo avanti con le notizie della settimana. Voi come la vedete la possibilità che le esclusive Xbox finiscano su Switch e PlayStation con sempre maggiore frequenza? Diteci la vostra nei commenti. Ok, siamo consapevoli che un'apertura di questo tipo sia piuttosto pesante, quindi alleggeriamo un po' con un argomento a metà tra la fantascienza e la tristezza. Un team di scienziati e ricercatori dell'Istituto di Scienza e Tecnologia di Nara ha infatti sviluppato un innovativo robot da gioco progettato per offrire compagnia, conversazione e stimoli sociali ai giocatori abituati all'isolamento e alla solitudine. Questo robot da gioco è stato poi progettato per essere in grado di giocare con l'utente e allo stesso tempo di parlare del gioco, sia che si tratti di fornire incoraggiamento, esprimere preoccupazione o persino lamentarsi per una sconfitta. In futuro i ricercatori suggeriscono anche che il robot potrebbe essere incorporato in un prodotto con altre funzioni e personalizzabile in base alle diverse esigenze. Insomma, se siete abituati a passare lunghe ore da soli davanti ai videogiochi e lavorate a casa tutto il giorno, beh, presto magari anche voi potreste avere quello che vi manca di più, ovvero un amico. Eh sì, sembrava strano non iniziare il 2024 con un'infornata di nuovi leak su hardware di nuova generazione, e infatti anche nel nuovo anno abbiamo pane per i nostri denti. Da una recente pubblicazione di Taiwan emergono infatti alcune possibili informazioni su Switch 2, o come altro si chiamerà la nuova console Nintendo. Ad ogni modo quello che emerge è una console dotata di alcune caratteristiche avanzate e altre che non sembrano invece ancora propriamente all'ultimo grido. Si parla infatti di 8 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interno, entrambi valori non propriamente alti ma che potrebbero essere in linea con la visione di Nintendo. Meno credibile invece è il display a 120 Hz. Su una console portatile un pannello come questo sarebbe un costo pressoché inutile, viste le difficoltà di questo tipo di macchine aggiungere a compromessi sensati tra risoluzione, framerate e autonomia. Il prezzo di 400 dollari al lancio poi ci sembra francamente poco credibile per una macchina che dovrebbe integrare anche una batteria più capiente e il processore T239 di Nvidia. Quest'ultimo poi per la cronaca dovrebbe faticare non poco a raggiungere i 60 fps a 1080p su titoli non proprio recentissimi. Insomma, prendete queste specifiche e tenetele a mente solo per giocarvi un te l'avevo detto con gli amici quando la console verrà effettivamente presentata. E a proposito di presentazione, ricordatevi anche che a febbraio il Nintendo Direct è un po' un appuntamento fisso, quindi potreste giocarvi anche questa previsione per spacciarvi per Insider. Bene, sfruttiamo il gancio di Nintendo per passare a parlare dei piani cinematografici e televisivi di Sony. Ok ok che c'entra, direte voi giustamente, ma probabilmente vi siete dimenticati che la divisione Sony Pictures Entertainment si occuperà della distribuzione della pellicola basata su The Legend of Zelda. Ed è proprio l'amministratore delegato di Sony, Kenichiro Yoshida, che ha parlato del film durante il CS 2024. Ovviamente non si è sbottonato troppo, ma ha comunque assicurato che racconterà una storia di avventura e di scoperta. Per ora non ne sappiamo altro, è vero, ma ci sono invece più informazioni su altri tie-in. Il film di God of War e The Horizon, per esempio, sono ora in fase di scrittura, mentre quello di Gravity Rush è in un avanzato stato di lavorazione. Per inciso, in un video dedicato alla nuova tecnologia di Sony per il cinema Torchlight è stato mostrato proprio un personaggio che salta da un palazzo con il logo Gravity Rush in bella vista, quindi è partito un breve montaggio tra le scene del film e delle sessioni di motion capture. La sessione di Gravity Rush si è quindi conclusa con il personaggio che si dirige verso una città volante, a quanto pare distrutta da un demone alato gigantesco. Per ora rimane confermato che le avventure cinematografiche di Kratos saranno pubblicate da Prime Video, mentre quelle di Aloy da Netflix. Per quanto riguarda Patapone, invece, è stato mostrato qualcosa di relativo a un nuovo progetto in sviluppo con un nuovo stile grafico. In realtà non è ancora chiaro di cosa si tratti, ma nel video si parla di IP development gaming anime, quindi le possibilità sono davvero diverse. Ad ogni modo vedremo in futuro se sarà annunciato qualcosa di più preciso. Si è andato intanto a completarsi il cast della seconda stagione di The Last of Us prodotta da HBO e trasmessa in Italia da Sky & Now. Nel corso della settimana sono stati infatti annunciati ben tre nuovi personaggi, tra cui l'attore di Jesse, che sarà Young Masino. Nominato agli Emmy per il ruolo di polla nella serie Lo scontro su Netflix, Masino, secondo i produttori Druckmann e Mason, è uno di quei rari attori che risultano indiscutibili dal momento in cui li vedi. Isabella Merced sarà invece Dina. Pseudonimo di Isabella Yolanda Moner Pizarro, Merced è un'attrice e cantante divenuta famosa per il ruolo di CJ Martin nella serie televisiva di Nickelodeon 100 cose da fare prima del liceo. Recentemente è stata poi scelta come Hulk Girl per il film Superman Legacy e come araña per Madame Web di Sony Marvel. Ma è stata anche Dora nel film live-action Dora l'esploratrice del 2019 e ha inoltre doppiato Ava in Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Tuttavia, il reveal più atteso è senza dubbio quello dell'attrice di Abby, che avrà ovviamente un ruolo determinante nella nuova stagione. La scelta in questo caso è ricaduta su Caitlyn Dever, già nota per aver recitato in Unbelievable la rivincita delle sfigate Short Term 12 e L'uomo di casa. Inoltre è stata anche Cassie Drake in Uncharted 4, ma se non l'avete ancora giocato evitiamo di darvi maggiori dettagli sul personaggio. Nonostante la giovane età, nel corso della sua carriera la Dever ha ricevuto già due candidature ai Golden Gloob e un premio Emmy. Sembra peraltro che l'attrice fosse già stata presa in considerazione in precedenza per il ruolo di Ellie che è poi andato a Bella Ramsey, ma evidentemente la Dever è rimasta impressa, ed è stata così richiamata per interpretare Abby nella stagione 2. E si tratta tra l'altro di una conferma delle voci di corridoio che erano già immerse nei mesi scorsi. Ok, e dedichiamo infine quest'ultimo blocco ad alcuni dati su PS5. Nel corso del CES 2024 è arrivato anche un aggiornamento sulle vendite della console, che a quanto pare ha superato i 50 milioni di unità complessive. Inoltre lo scorso dicembre ha visto il numero di utenti attivi tra PS5 e PS4 crescere fino alla cifra record di 123 milioni. E considerando che nel dicembre 2022 erano stati appena 112 milioni, beh, si tratta di una bella crescita. Va detto tuttavia che il numero dovrebbe comprendere anche alcuni giocatori residui di PS3, visto che la vecchia console pare essere ancora molto utilizzata. Bene, e con questo è tutto. Diteci nei commenti la vostra sulle notizie che vi hanno colpito di più e se il video vi è piaciuto lasciate anche un bel mi piace e iscrivetevi al canale per averne sempre di nuovi. Qui accanto, come di consueto, alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!